Oh oh, tutti i geni per questi soldi Diretto passo, ma non ho tanti noti E lo lungo ha detto passo Piem, metà zeri, virgola otto grammi Così leggera sta bastarda, così grossi drammi Telecomando, stai muto in pausa L'erae sta in mutande, come si ha perso la causa Soltanto troie, zero regime Questa non è una repubblica, è un regime Siamo arrivati al Kinderheim Abbiamo portato Gali in Colonia perché è stato bocciato a scuola Quindi per punizione Che mince, c'è proprio un mince A me lo stai dicendo, poverino Vabbè tu comunque avendo 50 anni ne avrai presi sicuramente Vado col nonno a fare altri video Il Gio è il nonno Però il Gio è il nonno Aspetta un attimo È lento perché non lo so, l'isabili Il disabile, dice Danilo, il disabile sei tu, dice Tu c'hai i piedi storti Roma, fino a Milano Il videoprodotto, raga Videoprodotto da Shablow Una bomba, raga Sembra un armadio Ma invece È una cucina Quanto è un applauso di Gian Mi parla perché mi lastimo Lo saporo Io non rappo Mi sollevo dal suolo Mi maglia polo Il ragazzo d'oro Il ragazzo d'oro Il ragazzo d'oro Il ragazzo d'oro 9.48 Il nostro aeree Doveva essere già partito da un'ora Praticamente Due favori del cazzo Dalle 8 del mattino Come i nonni Dio cane per andare a giocare a briscola La domenica Abbiamo buscato O ci hanno buscato La quota Chi respira il grande bianco A parte che se l'avessero fatta apposta Sarebbero venuti qua Perché non si sarebbero vincenne In effetti bravo Questa è bravo Quando arriva a Ars Vi facciamo vedere questo Preparato tutto Allora io fado così con Dani E glielo lancio lui E gli fa No, cosa che fai tu? No, che cazzo d'ora mia spinta Dani No, no, fai le cazzo Dani Cos'è? Che schifo Minkai Taylor No No Minkai Taylor con i canatori, quelli che si tagliare in casa da solo, con il Picasso che nasce e dei geni di Cassano, e il fatto di Picasso a capo lavoro, un prego verde non ci è tanto me per il cinto del mio corpo questo è tutto, non lo so che è salvelo se tu, proprio tu durano da troppo, non sa che un odio non importo, il primo che voglio così tanto che scoppio, tutti attivano abbiamo provato l'eseretto anche a tre mesi e sotto la canzone e abbiamo portato un barbacontrolli, l'abbiamo portato all'estero e l'abbiamo portato sotto una GX giusto? Rosaletto 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 Rosaletto